Come quaderni del Bardo edizione abbiamo pubblicato Contrasti radioattivi di Paolo Laddomada, un reportage fotografico sulle conseguenze di uno dei più grandi incidenti nucleari della storia dell'Occidente, parliamo di Chernobyl nell'aprile del 1986. Si tratta di fotografie scattate tra la città di Minsk e la regione di Gomel, parliamo della Bielorussia, che è stata la regione più colpita dalle radiazioni a seguito dell'incidente ed è un percorso quasi inferico all'interno di ruderi, di case abbandonate, che dimostrano un po' quella che è la conseguenza di una storia che schiaccia improvvisamente le destinarità di tutti noi. Ma nonostante questo il messaggio che è contenuto all'interno del volume di Paolo Laddomada e che consiglio assolutamente, data anche l'attualità dei fatti storici in cui ci troviamo a vivere, ci dimostra esattamente come la vita voglia assolutamente in maniera necessaria e totale recuperare la porzione di cielo anche nell'oscurità più profonda e questo ci inserga Paolo Laddomada con il suo splendido lavoro Contrasti Radioattivi, da noi edito. Lo trovate su Amazon, il libro e il link nell'info box di questo video.